Jaber è una nota marca per quanto riguarda i proiettori, a detta loro sono al primo posto per questo tipo di prodotto nella fascia di intrattenimento. Mi hanno inviato il modello V5 che rientra fra quelli più economici della famiglia. Ve lo spiego mano a mano senza troppi dettagli tecnici, altrimenti questo video sarebbe infinito. In descrizione lascio una pagina interamente dedicata a lui, così avete subito le informazioni che vi servono. Allora, la confezione è davvero completa, trovate quasi superfluo a dirla tutta. Intanto c'è questa borsetta che in estetica l'apprezzo molto, addirittura la ragazza voleva impossessarsene per metterci altre cose, in effetti la userei anch'io per altra roba, visto che ha anche due scompartimenti. Ma al di là di questo troviamo prima di tutto il messaggio cartaceo di benvenuto. Poi, plastico panno per gli occhiali, in questo caso serve naturalmente alla lente. Manuale, decisamente completo, e qui ci dedico una parentesi. È compreso il nostro italiano, oltre che al palese inglese, poi tedesco, francese, spagnolo e giapponese. Vi consiglio di darci un occhio, come sempre, e la traduzione purtroppo non è ben fatta, ma è comunque capibile, anche illustrato per una migliore comprensione. Addirittura, sull'alto di ogni pagina trovate le mail di supporto. L'ho voluta provare e ha funzionato subito, nel giro di poche ore hanno risposto. Poi, per quanto riguarda questa parte, troviamo, o meglio, trovo, le istruzioni rapide e infine il kit di pulizia. Da quest'altra parte, trovo il cavo HDMI, HDMI, o HDMI, HDMI, chiamatelo come volete, un po' di misto, in italiano non si capisce mai come pronunciare questo termine. Cavo di alimentazione, poi cavo con gli spinotti per ritornare un po' al passato, te lo comando, e infine un piccolo treppiede utile per inclinare il proiettore. E parto proprio dalla postazione, dal posizionamento. Prima di adoperare il treppiede, c'è già qualcosa che fa alzare dal piano di appoggio, almeno per quanto riguarda la parte anteriore. Una banale vite, estraibile con la sola mano. Se nel vostro caso non basta per ottenere una posizione ottimale, interviene il treppiede, che non è proprio comodo, secondo le mie impressioni, perché lo avrei fatto leggermente più grande. Avevo la sensazione che cadesse il proiettore da un momento all'altro. Nulla vi vieta di utilizzarne uno diverso, qui non c'è niente di proprietario. Gli attacchi, ecco, sono generici. Il cavo di alimentazione non dico che sia piccolo, ma nella maggior parte dei casi, serve una prolunga. La schermata di benvenuto ve la salto, perché voglio andare sul concreto. Allora, questa è un'interfaccia che restituisce istruzioni per quando desiderate collegare un dispositivo mobile, smartphone o tablet, Android o iOS. I passaggi da effettuare sono semplici e veloci. I metodi di trasmissione sono tre, ovvero la più immediata e sicura cablata, Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz e rete dati della SIM. Se optate per queste ultime due, chiaramente il proiettore deve collegarsi a internet. Si entra in questa pagina delle impostazioni e con la prima voce si va a ricercare la rete wireless presente nei dintorni. Non scendo nei dettagli per non appesantire il discorso. Dico solo che col cavo, e se potete usate questa come trasmissione per via della latenza, basta concedere l'autorizzazione sul dispositivo. E via che si parte. Allora, la risoluzione nativa è l'HD minimo, quindi il 1280x720p. Come formato va in 4 terzi, 16 noni o direttamente in auto, in base al video riprodotto al dispositivo. Minimo 45 pollici di visione, massimo 200 pollici. Ed è fantastico vederci una partita. Io, un proiettore, lo userei più che altro per vederci lo sport. Poi ovviamente ognuno è libero di vederci anche i miei video. La luminosità, o meglio l'esposizione, non mi è piaciuta. Ho subito cercato qualche impostazione per correggere, migliorare qualcosa, ma non ho trovato nulla di efficace. Poi, magari son io che sono proprio distratte, non ho trovato una voce che magari c'è. Al limite ve lo faccio sapere con la descrizione, visto che quella è sempre aggiornabile. Ecco, ora che vi trovate con del movimento proiettato, vi consiglio di aggeggiare un attimo le due manopole, in modo da avere una visione ottimale. Altoparlanti, serio, che sono decenti. I decibel ci sono, ma se volete avere un'esperienza migliore, naturalmente optate per delle casse dedicate, facendole partire dalla sorgente di riproduzione. PC, taletto smartphone che sia. Il telecomando è comodo, soprattutto per regolare il volume, impostare la fonte o per spegnerlo senza farlo manualmente. Magari è attaccato al soffitto e a nessuno piace l'idea di arrampicarsi con una scala. A proposito di fonte, quei cavi fatti vedere nella confezione, la spiegazione sul wireless, vi faccio notare giusto visivamente le porte presenti sul retro, dove sono collocate e quante ce ne sono. Sembra una cosa scontata, ma se si intende installarlo permanentemente, è bene che vi faccia vedere questo lato qui, in modo da regolarvi sul posizionamento. Non ho altro da aggiungere. Posso concludere ripetendo che l'esposizione non mi è molto piaciuta. O siete in un luogo totalmente buio, oppure la visione non è che... non me l'aspettavo così. Ecco. Magari date un occhio a qualche modello superiore. Chiariamoci qui. Il proiettore l'ho acquistato una sola volta, non è uno smartphone o un pc che ogni tanto devono essere aggiornati. Se intendete prendere un prodotto del genere, se potete, meglio che rispermiato dei soldi ora per poi comprare direttamente un modello superiore a questo successivamente. Io vi lascio comunque l'inserzione di Amazon in descrizione per questo V5. Col mio link aiuterete il canale senza spendere niente in più. È un sistema di affilazione che mi permette di acquistare materiale per questa mia attività. Sempre in descrizione ci sono scritti dati tecnici per guardare con oggettività. Io vi ricordo che se il video è stato utile, non dimenticate di lasciare un mi piace per il supporto e per altri video c'è la campanellina che vi avvisa sulle future pubblicazioni. A presto!